Una donna di 85 anni è stata rinvenuta nel primissimo pomeriggio di oggi senza vita nella sua abitazione di Via Tavo nel quartiere Rancitelli a Pescara. L'anziana è stata rinvenuta nella camera da letto dell'abitazione in cui viveva in una pozza di sangue con delle ferite ed ecchimosi che hanno richiesto un approfondimento. Sul posto dopo l'allarme arrivato alla sala operativa del 118 sono giunti gli agenti della squadra volante della questura pescarese. Successivamente in Via Tavo sono arrivati anche gli esperti della polizia scientifica di Ancona. Presente sul posto anche il medico legale Cristian Dovidio che ha effettuato un primo esame sul corpo della donna. Le indagini sono affidate alla squadra mobile coordinata dal primo dirigente Gianluca Di Frischia. L'allarme è stato lanciato dai parenti della donna che hanno subito allertato i soccorsi. Ulteriori accertamenti potrebbero nelle prossime ore chiarire le cause della morte della pensionata. I parenti della poveretta hanno ricostruito con gli inquirenti le ultime ore di vita dell'anziana che potrebbe essere morta anche diverse ore prima del ritrovamento del corpo e probabilmente la notte scorsa. L'ipotesi del malore sembra quella più attendibile considerato anche i problemi di salute con cui conviveva la donna. L'eventuale esame autoptico che il magistrato che coordina le indagini dovrebbe disporre nelle prossime ore servirà per sciogliere ulteriori dubbi.